Condizioni stabili ma ancora nessun segno di ripresa degli arti inferiori. Se da un lato proseguono le indagini per assicurare la giustizia i due individui che sabato notte hanno sparato a sangue freddo a Manuel Bortuzzo, dall'altra c'è la battaglia che il 19enne di Morgano sta combattendo dal letto di ospedale al San Camillo di Roma. Il proiettile che lo ha raggiunto al petto perforandogli un polmone arrivando alla spina dorsale è stato estratto dai chirurghi che lo hanno operato per ben tre volte ma se abbia causato danni permanenti saranno le prossime ore a dirlo. Manuel fanno sapere dal dipartimento di neuroscienze dell'ospedale della capitale presenta un buono stato di coscienza una volta sospesa per una breve finestra temporale l'anestesia ma sulle funzionalità del midollo non ci sono novità. In giornata era prevista una risonanza magnetica e ulteriori esami che serviranno a dare un'indicazione sulla possibilità del midollo spinale di condurre l'impulso nervoso. La prognosi rimane dunque riservata, la speranza di tutti è che il 19enne possa tornare a una vita normale e alla sua passione, il nuoto che l'aveva portato lui, atleta delle fiamme gialle, ad allenarsi al centro federale di Ostia. Così lo scorso ottobre raccontava la sua esperienza romana a un quotidiano online di informazione sportiva, Swin Beats. Dato che l'anno scorso purtroppo la stagione è andata molto male, causa monocleosi, ho detto le cose le facciamo bene o non le facciamo, quindi ho detto veniamo qua che è il posto secondo me migliore per me. E ci sfondiamo di mezzo fondo. Ci sfondiamo di chilometri, chilometri. Chilometri, chilometri di mezzo fondo. Di mezzo fondo. Mi vedi che sono come un pesciolino in mezzo agli squali. È vero che sei ancora un po' carente di allenamento? Sì, con il fatto appunto che l'anno scorso sono stato male sto appena riprendendo, però sto riprendendo bene. Sul fronte delle indagini sarebbe stato identificato, ma non sarebbe reperibile, uno dei due individui che in sella allo scooter prima hanno urlato qualcosa, poi hanno sparato a Manuel. Piazza Eschilo, all'Ax, alla stessa piazza su cui si affaccia un pub dove poco prima c'era stata una rissa, tanto che sul posto era già presente la polizia. Il giovane nuotatore trevigiano non c'entrava nulla. Gli investigatori pensano che i suoi aggressori, due individui noti come pericolosi, l'abbiano scambiato per un altro con cui avevano dei conti in sospeso.